Mi prende la parte corta, mi prende la parte corta, ok la prendo io questa, è una parte di un'altra cosa, mi prende la parte corta del pareo e si, il mano, allora alza pure le braccia così, e non toccare, no, così tutte e due, va bene, basta, basta, il gioco davanti è giusto, Allora quindi ti, ti sta imbarazzando pure lei perché c'ha uno sguardo troppo forte, lui è propositivo, ha lo sguardo penetrante, l'attende che fai la provocata cosa, fai a vedere, allora quindi un attimo, un attimo, un attimo, attenti se si deve ammazzare, allora tu chiudi gli occhi però eh, fatti chiudere gli occhi perché lui, Questa qua che la... mettiti le mani così, mettiti le mani in te, ma cos'è? Ma che è questa cosa? Non datevi muovere il bacino così, che è questa cosa? Mettiti la mani in te ti propina, ti propina non ti propituare ecco, ecco, bravo, rimani così e non ti muoveri tu indicevo, propinati da verso di lui signori, chiedo scusa, può sembrare ambigua ma non è così chi è? come fa? ah, ecco di qua e quindi vediamo facciamo vedere la prima cosa abbiamo fatto un notino davanti aspetta che non è ancora più e così potrebbe andare, tipo, stile matrimonio bravo, con lo strascico dietro esatto a questo punto con una mossa, diciamo con una mossa non sciamanza andiamo a prendere il pezzo che rimane dietro nel paliero ok, il pezzo che rimane dietro signori, eccolo lo prendiamo lo prendiamo ah, e tiriamo non tirate troppo qua è fondamentale che, diciamo, il paliero abbia, diciamo così venga per bene sistemato cioè, bisogna proprio tirarlo per bene perché se non viene tirato bene il modello ma se tu dirvi troppo questo qua deve essere qualcosa perché guarda vedi non si sa c'è il paliero a questo punto facciamo una specie di torniglione piano che qua la torciglia a lui qua piano quindi arrotoliamo per bene e a questo punto si a questo punto arrotoliamo per bene e andiamo ad inserirlo dove c'è il nodo dove c'è il nodo e qua tutti si domandano ma dov'è il nodo guarda 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 come si è messo dopo se ne deve più un pedicello proprio faccia in attesa in attesa guardalo l'elefante fa pressione attesa fa pressione non sarà a noi quando ci stai facendo pressione dica via prego attenzione guarda il cordone guarda che cordone piano guarda guarda perché ieri hanno fatto l'espressione all'elefante e quindi non lo sapevo aia aia rilassati rilassati questo c'è un po' più altra attenzione piano piano aia ma che merveglia faccio il massaggio la tiglia non ho passato la cerveglia a questo punto a questo punto possiamo sciogliere il cordone il cordone o pericare le trecce i cavalli bello 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 guarda qua che pareo una cosa così lunga e pendente non ce l'avevi danni però è questo che il modello è c'è un circuito tecnico ma perché c'è questa protuberanza scusate voi quando state in piazza camarada cucina ma cammina come voi però fai vedere il tuo modello signora brava brava vista brava